buona giornata amici da massimo foghetti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv cominciamo subito la lettura dei giornali però con l'anticipo dell'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia Santa Caterina di Svezia non è la Santa Caterina italiana, è un'altra santa ma ugualmente importante visse nel XIV secolo e pensate era figlia di una santa sì, era figlia di Santa Brigida e del principe Ulfone di Noricia sposò un ricco e nobile cavaliere, si chiamava Edgardo ma ottenne da lui di vivere in castità quindi sia lo sposo che la sposa vissero sempre in maniera illibata rimasta vedova rifiutò molti pretendenti si dedicò allora alla vita religiosa si ritirò in un monastero di cui divenne priora e aiutò in modo particolare gli infermi e i dereliti per questo compì anche diversi miracoli per cui fu fatta santa appunto quanto dopo ovviamente la morte questa è Santa Caterina di Svezia quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Caterina ed ora vediamo anche le previsioni del tempo tempo buono su tutte le marche vediamo il sole su tutta la regione condizioni di stabilità con ampio solleggiamento qualche velatura in transito nell'arco del giorno il clima diurno è molto mite le temperature saliranno fino a 21 gradi le minime a 9 gradi i venti sulle coste ispireranno da ovest e sud ovest così come nell'interno il mare è poco mosso quindi veramente una temperatura primaverile ormai ci stiamo veramente assuefacendo al tempo più mite rispetto ai rigori dell'inverno anche se dobbiamo dire non sono stati molto rigori quelli invernali ed ora cominciamo dalla segna stampa a partire dal Corriere Adriatico lo vediamo qua sulla pagina di Fano eccola e vediamo una notizia importante emergono altre vestigia romane oltre quelle di Vitruvio ma non in via Vitruvio in un altro sito della città non molto lontano sotto la scuola media Gandiglio oggetto in questo periodo di lavori per la sistemazione sismica ebbene è stato scoperto si sembra, sembra un opificio sotto la scuola rinvenuta una pavimentazione antica nell'ambito del cantiere per l'adeguamento antisismico questo è un po' il sunto della notizia comunque dobbiamo dire che la Fano archeologica non finisce mai di stupire e dopo i ritrovamenti di via Vitruvio nuove testimonianze sono venute alla luce comunque quello è un sito che era già stato oggetto di rinvenimenti quello nei pressi del Gandiglio siamo in una zona vicino l'antica il confine antico della Fanum Fortunae comunque una zona abitata una zona ricca di domus di ambienti di lavoro e quindi anche questo potrebbe essere uno di questi anche se sono gli ambienti di Vitruvio a tenere col fiato sospeso gli studiosi e anche gli amministratori perché potrebbero essere attribuiti veramente alla Basilica di Vitruvio questo ritrovamento non è affatto da sottovalutare quello che è avvenuto alla luce è un piano di calpestio particolarmente frequentato non si tratta di un ambiente di prestigio ma è ugualmente importante per tracciare la carta archeologica della città di Fano è una pavimentazione cementizia punteggiata da tessere chiare che oltre a decorare la superficie rendevano più luminoso il pavimento nelle ore buie evidentemente ora gli studi sono all'inizio tutto quanto viene condotto con la supervisione della soprintendenza le archeologhe sono al lavoro così come nel sito di Via Vitruvio anche se lì al momento gli scavi sono stati sospesi in attesa di individuare finanziamenti per poterli proseguire e qui ora c'è un altro sito che bisognerà decidere che cosa farne se ricoprire il tutto oppure porlo in evidenza certo è che per una scuola avere un sito archeologico all'interno della sua sede potrebbe essere una risorsa importante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista didattico ma i ritrovamenti non finiscono qui non finiscono qui perché qualcosa è stato trovato anche nella zona dell'aeroporto nel corso degli scavi eseguiti per il parco urbano in questo caso si è messo le mani si è ritrovato un sito archeologico ancora più antico di carattere preistorico pensate sono venute alla luce dei frammenti lavorati di Selce quindi veramente gli uomini dell'età della pietra e poi anche dei cocci probabilmente un insediamento molto molto più antico dell'epoca romana che anche questo è oggetto di studio da parte della soprintendenza Fano veramente è molto ricca di reparti archeologici ora la responsabilità è quella di valorizzarli insomma di non chiudere una pagina nel momento degli scavi degli studi poi tutto finisce lì sarebbe veramente uno spreco di risorse perché poi queste cose hanno un valore anche dal punto di vista economico per l'attenzione che attraggono per i turisti per la cultura stessa della città a fondo pagina troviamo l'intervento del sindaco nel corso delle cerimonie per il quarantesimo anniversario della morte di Filippo Montesi la comunità non dimentica Filippo Montesi ha detto Massimo Seri le parole a 40 anni dalla morte del militare fanese caduto in Libano una cerimonia per ricordare un uomo che ha donato la vita per il paese una voce quella alimentata dalla emozione con cui il sindaco ha pronunciato il suo discorso si tratta di una cerimonia che si è svolta l'abbiamo visto anche ieri sui giornali al teatro della fortuna con la presenza dei militari con la presenza dei comilitoni di Filippo Montesi con la presenza dei familiari a cui sono state restituite le medaglie come abbiamo detto sottratte nella tomba di Filippo a San Costanzo ed ora vediamo nella seconda pagina di Fano invece un aggiornamento per quanto riguarda il processo della lanterna azzurra che si sta svolgendo in Ancona ebbene verranno a testimoniare questa volta ci saranno davvero sia il rapper Fedez che il trapper Sfera e Basta l'audizione di entrambi è stata rinviata più volte per il rapper Stop all'effetto Rebound vedremo un attimo di che cosa si tratta comunque i due rapper verranno interrogati come testimoni in merito alla strage di Corinaldo e il cantante e il cantante in realtà non si esibì mai si tratta di Sfera e Basta che doveva e doveva essere protagonista di quelle concerto che aveva attirato tantissimi giovani in quella discoteca che poi purtroppo dove è accaduto il dramma il cantante in realtà non si esibì mai al DG7 ed è questo uno degli elementi su cui verrà interrogato nell'ambito del filone bis che riguarda i colletti bianchi gli aspetti della sicurezza all'interno della lanterna azzurra e poi anche dei permessi rilasciati dalla commissione di vigilanza Fedes e Sfera erano già stati convocati in precedenza nelle ultime settimane però in particolare Fedes aveva rinunciato presentando un certificato medico affidandolo poi ad una storia su Instagram le motivazioni della sua assenza aveva detto sono crollato dopo aver sospeso un psicofarmaco ho avuto un effetto rebound ecco questa parola che avevo menzionato prima ecco perché non ho potuto essere al processo per la strage di Corinaldo così aveva spiegato il silenzio degli ultimi tempi questa volta invece sarà presente e poi abbiamo anche una denuncia da parte di Fratelli d'Italia per quanto riguarda l'incuria che vige nel parco pubblico dei passeggi sporcizia e degrado al parco dei passeggi parco urbano tra sporcizia camminamenti inagibili mancanza di sicurezza e degrado una cartolina che Fano non si merita Fratelli d'Italia pone un contraltare a quello che è stato definito un rendering elettorale ovvero un po' quello che la Giunta sta facendo in merito ad altri aree verdi vedi per esempio l'area ex Agip ebbè è un contraltare tu giunta poni l'attenzione su questa area però dimentichi quello che già c'è ovvero il parco dei passeggi in questo caso viene denunciato il fatto che il cancello che doveva essere chiuso per garantire la sicurezza nel lato sud è addirittura sparito gli altri cancelli ormai da tempo non vengono più chiusi di notte ci sono vaste pozzanghere ci sono anche sversamenti di un liquido nero vediamo anche come il resto del carlino tratta più ampiamente questo articolo questo argomento passeggi che degrado slalom tra acqua e rifiuti dito puntato contro lo stato dei giardini cittadini anche il parco polverari finisce sotto i riflettori ritardo nella realizzazione e cresce la protesta è un articolo che si ispira ad una nota inviata da Loretta Manocchi che è la segretaria di Fratelli d'Italia occorre schivare laghi di acqua e sporcizie ha detto la Manocchi addirittura c'è dell'olio di automobili sversato senza contare la mancata manutenzione delle piante e degli arbusti che spesso intralciano il camminamento insomma bisognerebbe dare più sicurezza e più cura a manutenzione a questo bellissimo angolo d'ambiente non affatto lontano dal centro storico e quindi veramente di pregio e attenzione di non fare la caccia al lupo in che potrebbe essere inconsistente ovvero l'esibizionista che costituisce veramente un problema nell'entroterra fanese però attenzione insomma perché si dà certezza di averlo visto da una parte e di averlo visto dall'altra mentre questo non è vero esibizionista c'è l'effetto psicosi in titolo oggi il Corriere Adriatico diffuso in chat un falso allarme una donna segnala l'uomo a Lucrezia con tentativo di violenza sindaco e carabinieri però smentiscono c'è chi l'ha visto da una parte nel parco di Lucrezia c'è chi l'ha visto a Ponte degli Alberi insomma ci sono delle segnalazioni che poi sono inconsistenze e attenzione perché se si criminalizza una persona che poi questa risulta innocente ebbene si fa del danno ugualmente perché quel marchio rimarrà per forza indelebile su quella persona anche se questa è del tutto estranea quindi mi raccomando cerchiamo di avere la testa sulle spalle e non denunciare a manca e a destra a sinistra e a destra la squalida storia dell'esibizionista sta provocando veramente una psicosi collettiva ancora per quanto riguarda la Val Cesano vediamo che Pesaro trova un sito molto importante e ambientalmente suggestivo per iniziare la sua attività come capitale della cultura tra ambiente e spiritualità oggi un incontro al monastero di Fonte Avellana a Fonte Avellana il primo confronto extraurbano di Pesaro capitale della cultura Fonte Avellana è lo scenario ideale per parlare di cultura e ambiente ebbene oggi alle ore 10 si uniranno Alberto Alessandri che è il sindaco di Cagli e presidente dell'Unione Montana del Catria e del Nerone ci sarà anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Daniele Vimini che è l'assessore e il vice sindaco assessore alla bellezza ci sarà poi anche Don Salvatore Frigerio il monaco di Fonte Avellana oltre a Agostino Riitano direttore artistico di Pesaro 2024 ci sarà una tavola rotonda tra i sindaci per coinvolgere anche il territorio in quel grande programma di eventi e di iniziative che Pesaro si appresta a realizzare in occasione del 2024 come capitale nazionale della cultura vediamo ora la pagina di Senigallia e parliamo della rotonda l'edificio simbolo di questa località balneare la rotonda si fa bella per i 90 anni entra in sala trucco al via i ritocchi verrà levigato il corimano che è un po' scrostato verranno pitturati anche i locali interni l'intervento proposto si pone l'obiettivo di ristabilire la funzionalità operativa del manto stradale quindi verranno anche riasfaltati alcuni tratti migliorate le condizioni di sicurezza per l'utenza stradale inoltre verrà ampliata l'area a parcheggio lato monte fronte civico 178 nei pressi del bar Uliassi a ridosso della sede stradale per consentire in questo caso la sosta degli autobus sappiamo come la rotonda sul mare di Senigallia costituisce anche una forza attrattiva per il turismo basta solo guardarla abbiamo poi anche un articolo che riguarda Senigallia nella seconda pagina giocano a basket spariscono gli scooter la polizia dalla caccia a un branco di bulli sono stati rubati due motocicli nel piazzale di via Borgo San Giovanni a Roncitelli uno poi è stato abbandonato e quindi è stato ritrovato vediamo anche le pagine pesaresi dove si rende conto dei lavori per quanto riguarda la rotatoria della Seligata un punto nevralgico per quanto riguarda il traffico dove purtroppo si sono verificati non pochi incidenti ebbene dopo l'inizio dei lavori e la sosta nei mesi invernali ora ripartirà il cantiere però il transito sarà vietato la presidente del quartiere e la nuova roadmap rondò pronto per l'estate Siligata lavori fermi durante l'inverno scelta voluta dall'ANAS ma ora ripartiranno i lavori la rotatoria pronta per quest'estate ma andrà chiuso il traffico durante il cantiere cercheremo soluzioni che rechiano meno disagi ha detto la presidente appunto del quartiere 900 mila euro l'investimento per questa grande struttura che dovrebbe salvare speriamo vite umane e poi si parla nell'altra pagina nella pagina accanto della ciclovia adriatica che insomma sta arrivando al traguardo il tracciato sarà però con un buco perché lì non c'è lo spazio fisico per realizzare il camminamento protetto lavori a tutto gas ma da case Badioli a Gabice la pista non ci sta di lì in poi verso Gabice infatti lo spazio riservato alla mobilità debole deve ancora essere realizzato come conferma l'assessore alla viabilità di Gabice Aroldo Tagliabracci ma con una variante infatti non c'è lo spazio per la ciclabile e nemmeno anche per l'area pedonale per questo nel tratto tra case Badioli e Gabici verrà realizzato solo un marciapiede pedonale questo è un po' purtroppo la fisica è quella e lo spazio non si può inventare vediamo ancora altre notizie parliamo di via Mazza e di palazzo a Imonino via Mazza l'Erap incontra l'impresa scontro su 100.000 euro di lavori c'è un contenzioso tra l'impresa che sta realizzando questi appartamenti si tratta di 34 residenti di case popolari che dovrebbe essere realizzato in questo palazzo diciamo storico della città di Fano anche se realizzato negli anni 90 ebbene però insomma poi dato in degrado come tutti sappiamo però sono sorti dei problemi ed ora il contenzioso tra la ditta e l'amministrazione comunale riguarda l'impiantistica secondo l'Erap dovrebbero essere realizzati gli impianti elettrici il riscaldamento e i sanitari dalla ditta però la ditta dice che avrebbe bisogno di ulteriori risorse per l'aumento delle spese vive del cantiere e quindi dice no questi sono degli lavori che dovrebbero essere finanziati ancora con un finanziamento supplettivo dall'amministrazione comunale c'è questo contenzioso ma oggi c'è un incontro per andare ad un accordo ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino al resto del Carlino l'apertura è dedicata ad una nota ad un incontro con il vice sindaco Cristian Fanesi che analizza tutto l'aspetto fotovoltaico una delle risorse per quanto riguarda l'affano dei prossimi anni fotovoltaico a tutta sale la richiesta di impianti il vice sindaco Fanesi fa il punto si tratta di piccole aree ma diventano un problema quanto si realizzano una vicino all'altra tante piccole aree poi fanno una moltitudine perché cresce la richiesta per l'installazione di impianti fotovoltaici tra Torno Carrara e Falcineto sono quelle aree vicine alla stazione elettrica di Carrara sappiamo poi come una grande area è stata al momento fermata per quanto riguarda lo spazio tra il comune di Fano e il comune di Cartoceto ebbene ovviamente dice il vice sindaco l'amministrazione comunale considera l'effetto cumulo di queste piccole aree una vicino all'altra con la conseguenza di cercare di calmare la situazione anche se ovviamente questa è un po' la fonte di approvvigionamento energetico del futuro e quindi occorrerà in un certo senso regolare tutta la materia con un riguardo all'impatto ambientale fotovoltaico a tutta forza forza è sottointeso e poi un bel successo da parte di una ditta fanese ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi la fanese TECFEM in pole position nel progetto per l'idrogeno rinnovabile un buon appalto un bel appalto per quanto riguarda una stazione di rifornimento in provincia di Catanzaro in Calabria di passeggi abbiamo già parlato lo vediamo qui in questo articolo è la presa di posizione di Fratelli d'Italia ed ora parliamo della Cole Marathon la Cole Marathon in programma per il mese di maggio ha già 500 iscritti ma arriverà sicuramente oltre ai 1000 queste almeno sono le previsioni degli organizzatori è partito il conto alla rovescia si corre il 7 maggio prossimo e la presidente del comitato organizzatore dice la risposta di partecipanti è straordinaria mancano ancora 43 giorni alla 19esima edizione di questa bella corsa che si è distinta anche a livello nazionale per il paesaggio in cui si svolge ebbene nonostante la partenza in ritardo della macchina organizzativa perché a un certo punto si era anche deciso di sospenderla perché veramente c'erano dei problemi anche di rapporti con le amministrazioni di carattere organizzativo eccetera comunque ora si è ripartiti con grande voglia di giungere al traguardo con una grande organizzazione con una bella riuscita di una delle manifestazioni che è se il portabandiera del territorio per quanto riguarda Colli al Metauro invece sta per partire la raccolta porta a porta Colli al Metauro si prepara la giunta partirà dal terzo giorno del mese in preparazione le lettere con le quali si comunicherà la consegna dei nuovi kit per il conferimento partirà esattamente dal 3 luglio il porta a porta integrato su tutti i municipi del nostro comune ha dichiarato il governo cittadino in questi giorni si sta predisponendo le lettere rivolte alle utenze domestiche con le quali si comunicheranno le modalità di consegna dei nuovi kit per il conferimento dei rifiuti con i bidoncini del secco predisposti per l'introduzione della tariffa puntuale ed è questa la novità che è veramente un cambiamento radicale per quanto riguarda anche il calcolo del costo del servizio visto che saranno dotati di un trasponder che permetterà di monitorare gli scarichi quindi meno uno scarica e meno paga la bolletta dei rifiuti a San Lorenzo c'è un appello del sindaco dell'Onti riducete le dimensioni dell'edificio in piazza un appello al sindaco dell'Onti riducete le dimensioni dell'edificio in piazza un grande edificio che dovrebbe pubblico e privato ci sono ambienti a servizio dei privati cittadini ma anche di carattere pubblico che sono troppo troppo grandi e quindi limiterebbero un po' quello che è l'impatto visivo della piazza di San Lorenzo per avviare una variante in corso d'opera che porti ad una riduzione delle dimensioni dell'edificio in costruzione questo è il senso dell'appello perché lo si ritiene troppo grande e impattante sia in larghezza che in altezza e in profondità tale da chiudere la visuale del borgo antico ebbene questa è la proposta ad Urbino il procuratore Andrea Boni torna a Siena va appunto in Toscana indicato alla unanimità dalla commissione del consiglio superiore della magistratura quale nuovo capo della procura della città del Paglio un trasferimento prestigioso per Andrea Boni in uscita anche il PM Lilliu la procura di Urbino ormai si svuota tra meno di 5 mesi rimarrà un solo sostituto procuratore di ruolo l'attuale capo infatti Andrea Boni andrà a ricoprire lo stesso ruolo a Siena dove ha già lavorato è stato indicato ieri alla unanimità dalla commissione per gli incarichi direttivi del CSMM quindi per lui è un ritorno a casa così possiamo definirlo e ancora parliamo della guinza parliamo della guinza però non dal versante marchigiano dal versante umbro in nulla tra i boschi si insiste sul completamento della galleria ma poi quando avremo il resto del collegamento punto interrogativo gli amministratori si interrogano anche perché questi annunci del governo che dicono prossimi alla realizzazione di singoli tratti poi non hanno una visione globale ebbene speriamo che la telenovela della guinza si risolva al più presto e con questa notizia noi concludiamo la nostra rassegna stampa vi ringrazio per l'ascolto e come sempre vi do appuntamento a domani alle ore 7 buona giornata grazie a tutti